Finalmente ottenemmo di poter costruire in questa che è la nostra vallata. A me mi incaricarono di trovare, essendo il più grande, di cercare di darmi da fare a trovare una zona e facemmo delle lunghe e larghe passeggiate chiedendo informazioni varie. Qui davanti a noi dove siamo oggi c'è la prima villa di Giacomo Leopardi dove il poeta Giacomo veniva spesso a studiare, io conoscevo bene anche il conte Franco, per prima cosa chiesi a lui se ci dava 4 o 5 attre di terra in questa zona e Franco non mi disse di no, soltanto che mi chiese un prezzo che era impressionante e francamente non potevamo noi spendere quella cifra. Allora cercando e ricercando mi disse la signora Emma, la moglie, o Gianni dice so che tu cerchi un terreno per costruire c'era, sai che si vende quello della signora Vigherani, la signora Vigherani è la donna di Beniamino Gigli, quando mi ha detto, dice guarda si sta vendendo a 35 milioni, soltanto che non sono d'accordo, io ho trovato una persona che fa proprio il mediatore di queste cose, io ho detto senti guarda si vende questo terreno a queste condizioni, ti do un assegno di 5 milioni che ti dai come acconto, domani sera mi devi portare il terreno e la sera dopo ho avuto questo terreno.